Elezioni amministrative di Palermo, 11 giugno 2017. Modalità di voto. Si ha la possibilità di scegliere due candidati di sesso opposto della stessa lista. Nella scheda azzurra per i candidati al Consiglio Comunale, barra il simbolo Alleanza per Palermo, scrivi il nome del tuo candidato preferito, Tomaselli, poi sottoscrivi il nome del tuo candidato donna preferito, Manescalo. Nella stessa scheda, segna con una croce il nome del tuo candidato a sindaco preferito, Leonica Orlando. Per le circoscrizioni, in particolare per la seconda, nella scheda rosa, barra il simbolo Alleanza per Palermo, scrivi il nome del tuo candidato preferito, Di Fiore. Adesso puoi tornare a casa, sapendo di aver fatto la scelta giusta. Adesso puoi tornare a casa, sapendo di aver fatto la scelta giusta.